In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. A una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, Non temere, Maria. Perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E regnerà per sempre sulla casa di Giacoppe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Non so se sia leggenda oppure no, ma qualcuno racconta che Papa Francesco, quando deve scegliere i Vescovi, si fa dare la lista di tre preferenze indicate dalla Commissione. E posto il foglio sulla scrivania, lo rovescia, partendo dall'ultimo, che così diventa il primo. Magari sono solo fake news, ma questo aneddoto mi serve per agganzarmi alle logiche di Dio. Anche Dio aveva a quei tempi delle preferenze titolate. Invece sceglie la perfetta sconosciuta, Maria. Ma vediamo come. Gerusalemme è ovviamente la città predestinata ad accogliere la venuta del Salvatore. Gerusalemme è la città di Davide, la città del Tempio, cioè del luogo di incontro tra Dio e il suo popolo. Il Tempio dice l'ufficialità della religione, l'istituzione teologica, la dottrina, la mediazione necessaria. Il Messia certamente dovrà nascere qui, a Gerusalemme, preferibilmente in casa di sacerdoti, come ad esempio potevano essere Zaccaria ed Elisabetta. E invece questo non accade. L'annuncio atteso da Israele arriva in pieno nascondimento a Nazareth, villaggio fino a quel momento sconosciuto, mai nominato in tutto l'Antico Testamento. E lo riceve non un sacerdote come Zaccaria, ma neppure un uomo, ma una donna, una ragazzina. E neppure per opera di un uomo. Potremmo dire senza alcuna mediazione. Ma tutto questo non ci rivela forse un nuovo progetto da parte di Dio. Non è forse una nuova spiritualità quella che Dio vuole inaugurare. Non Gerusalemme la capitale, ma Nazareth la periferia. Non il Tempio, ma una casa. Non un sacerdote, ma una laica. Non un uomo, ma una donna. Zaccaria riceve Giovanni, l'ultimo dei profeti. Maria, invece, riceverà Gesù, la primizia del nuovo regno. Giovanni il Battista, come ogni religione, prepara la via del Signore, ma Gesù è la vera via, l'incarnazione di Dio. Il cristianesimo, diciamolo, non è una religione, ma è una persona viva che rivoluziona il nostro modo di pensare, di pregare, di incontrare Dio. Allora oggi, invece di andare al Tempio, facciamo un tuffo nella bottega del falegname per capire che la nostra spiritualità è dentro la vita di tutti i giorni. Grazie.